Ciao a tutti! Durante un progetto in merito ad una soluzione per la gestione, distribuzione e approvazione dei documenti, ci siamo chiesti quanto sia importante porsi le domande giuste. Come disse Einstein, se avessi solo un'ora per risolvere un problema e la mia vita dipendesse da questa soluzione, passerei 55 minuti a pormi le domande giuste e negli ultimi 5 minuti troverei la soluzione. Ho scoperto che in altri paesi come la Germania esiste già un job title riferito a questo, che si chiama Director of Fundamental Questions. Le domande giuste ci sfidano a ragionare su livelli più profondi e stimolano la nostra creatività. Concentrazione, concentrati in azione!